Organizzato dall'Unione dei Comuni oggi ad Ancarano nell'auditorio con questo corso legato alla anticorruzione nella pubblica amministrazione. Sì, ringrazio la dottoressa Emilia Piro, nostro segretario comunale, nonché segretario dell'Unione dei Comuni, ringrazio il presidente dell'Unione dei Comuni, Orlando Angelini, per aver scelto come location dell'evento il Comune di Ancarano e più specificatamente l'auditorio comunale. È un momento importante di formazione perché comunque è una problematica fondamentale delle vicissitudini della pubblica amministrazione, ma al di là di quello che possono essere anche gli aspetti negativi, è importante in qualche maniera approfondire gli aspetti preventivi. Quindi è una formazione che mira anche a un miglioramento di quelli che sono i punti di vista, le visioni, dei vari atti e dei procedimenti amministrativi, anche in virtù di un altro importante aspetto, quello della trasparenza. L'uso è un personaggio importante, per l'atto è laureato in circostanze misteriose. Si parla di anticorruzione e si parla in un contesto dove la corruzione è più figa, perché i corrotti sono persone che di cose sanno risolvere, combattere la corruzione vuol dire che qualche volta avrete problemi. Però dobbiamo farcela, a far capire che anche l'anticorruzione è bello, anche l'anticorruzione è vincente, perché se vogliamo un sistema sociale che funziona, dobbiamo tutti insieme capire che le leggi sono importanti. Certo, ci piacerebbe che chi fa le leggi le facesse sostenibili, applicabili e un po' più corrente. Esiste però un problema vero di corruzione nella pubblica amministrazione? Io non conosco il territorio e penso che qui non vi sia, per carità. Nella PA esiste, perché c'è nella società, esiste dove esiste il potere amministrativo, il potere di decidere a chi autorizzare, che uso fare del territorio. Sono contesti in cui inevitabilmente c'è una potenza attrattiva, è logico, dove sia un ministro c'è. Ed è per questo motivo che il nostro compito di cittadini è di essere più attenti. Qui tutto accade perché siamo disattenti. Se fossimo più attenti forse non accadrebbe.